E' diventato virale sui social media portando un messaggio di positività. Si chiama Torneremo a danzare, la canzone scritta e registrata da Aldo Troiano, coordinatore infermieristico e autore del brano musicale, e Fabio Tarantino, cardiologo, interventista e musicista. Una sorta di inno all'ottimismo, che ha anche l'obiettivo di raccogliere fondi per l'associazione Salute e Solidarietà di Forlì. L'idea del video nasce dalla nostra esigenza di voler dare ancora di più rispetto a quello che stiamo già dando con il nostro lavoro. Abbiamo cercato di mettere assieme con questo brano tutte le nostre sensazioni ed emozioni che stavamo provando in queste settimane e la nostra passione per la musica ci ha spinto a far questo. Chi sono le persone coinvolte in questo lavoro e quanto tempo ci avete messo a registrarlo e a realizzarlo? Allora, il tutto è durato circa un mesetto, dal momento del concepimento, fino al 4 maggio data di uscita del video, che tra l'altro combaciava anche con l'inizio della fase 2. Io, Aldo Troiano, sono autore del testo e quindi della melodia vocale. C'è mio fratello che ha composto e suonato le chitarre, Davide Troiano ha suonato e composto le chitarre del brano. Abbiamo avuto anche il supporto di Fabio Tarantino per l'aggiunta di altre parti di chitarra. E non voglio dimenticare chi ci ha aiutato a registrare il tutto, ovvero Vincenzo Picciolo ed Andrea Picciolo dal punto di vista audio, mentre poi abbiamo avuto il supporto di Michele Vattancoli per quello che è stata la realizzazione del video. Torneremo a danzare, ma torneremo anche a cantare. Certamente, perché è il nostro auspice di poterla suonare dal vivo nelle prossime occasioni.